La brigata Sassi assume oggi il comando del settore ovest di Unifil in Libano, una delle aree più importanti per gli equilibri del Medio Oriente. Sono certo che continuerà a svolgere quella importante funzione di peacekeeper nel processo di stabilizzazione di questo paese, un ruolo che gli italiani svolgono in maniera eccellente da diversi anni e che ha consentito alle nostre forze armate di ottenere numerose attestazioni di stima dei nostri alleati, così come dai governi e dalle popolazioni locali, queste le dichiarazioni del sottosegretario della difesa Giulio Calvisi. La presenza di Unifil è ancora fondamentale e rinunciabile per garantire la stabilità del paese e per mantenere gli equilibri di un'area che presenta ancora oggi notevoli complessità. Il contingente della brigata Sassi sarà guidato dal generale Andrea Di Stasio, sotto il suo comando il delicato compito di sostenere le forze armate libanesi nelle operazioni di sicurezza e stabilizzazione dell'area per aiutare il governo libanese a garantire la sicurezza dei confini.